Musica Effettivamente però sono un po' in fissa con gli anni 90 Sei arrivato? Ma scusa, mi dovevi chiamare Olimi Marco, ho finito la carta telefonica? Ma ce la fai? La carta telefonica Non ha il controllo di stabilità Non ha il servosterzo Non ha l'ABS Ma chi se ne frega 98 cavalli a oltre 7.000 giri e soprattutto solo 810 kg di peso Va bene ragazzi, io allora vado al cinema Cos'è che vai a vedere? Un film fighissimo appena uscito Pulp Fiction Il video domani ti raccolto com'è? Oh ma ce la fai? Secondo me no Ciao Grazie per la visione!